Sarà un salto di qualità nella raccolta differenziata dei rifiuti, ne sono convinti i promotori, Comune e Provincia a Cegas e Fipe, della nuova iniziativa del kit per i pubblici esercizi. Si tratta di contenitori per differenziare correttamente l'immondizia pensati appositamente per bar e ristoranti, che saranno distribuiti gratuitamente dalla Fipe già da domani presso la sede di Via Roma, agli esercenti che ne faranno richiesta fino a esaurimento scorte. Tutti i pubblici esercizi avranno un contenitore triplo per la raccolta differenziata in sede, sarà un primo passo importante per aumentare sia la quantità di rifiuti differenziati, ma direi anche la qualità, in quanto eviteremo una serie di smaltimenti non propriamente ottimali, che ancora ogni tanto vediamo fatti da qualche pubblico esercizio. A disposizione 500 contenitori impilabili da 50 litri per ogni tipologia di raccolta, plastica, umido e indifferenziata, e 200 bidoni da 120 litri con le ruote, che oltre a contenere vetro e lattine, possono essere usati per trasportare anche gli altri sacchi di rifiuti alle isole ecologiche. Quella di oggi è una giornata importante, la Fipe è una categoria che potrà darci un aiuto fondamentale, mi sembra molto convinta di essere un protagonista positivo di questa vicenda. Da un lato la Federazione dei Pubblici Esercizi si è impegnata a diffondere tra gli operatori, anche non iscritti, la cultura della differenziata. Dall'altro Acegas ritiene di aver imboccato la strada giusta, annunciando l'aumento della percentuale al 38% nel mese di maggio.